Musica Mirella Sant'Amato, scrittrice, giornalista, poetessa e filosofa di vita. Mirella Sant'Amato nasce a Ravenna negli anni 50 e, come molti di quella generazione, viene colpita dal virus della poliomielite, che segnerà profondamente la sua esistenza, ma che le darà la forza di autoprodurre un atteggiamento vincente e sovrastante nei confronti dell'handicap, scardinando così ogni convenzione sociale. Un esempio per molti, uno stile di vita reattivo e per questo definito da alcuni scomodo. Mirella Sant'Amato, che rivediamo in queste immagini, ospite nel Toll Show pomeridiano degli anni 90, prima che sia troppo tardi a San Marino RTV, ha scritto libri e saggi su come vincere l'handicap, sull'essere felici come fonte di salvezza e come antidoto contro ogni malattia di genesi psicosomatica. Non a caso è titolare di un sito che si chiama www.viverefeliciecontenti.it Mirella Sant'Amato ha da poco pubblicato un libro, il suo ultimo libro, Quando Troia era solo una città, edito da uno editore. Libro che sta presentando in tutta Italia. Ultimamente l'ha vista protagonista nella suggestiva tenuta di San Rossore a Pisa, due tappe a Milano ed una tre giorni romana presso il calcio sociale centro di aggregazione Valentina Venanzi a Corviale. Lì a Roma l'abbiamo incontrata ed intervistata dopo 21 anni. A volte strade, persone si incrociano e si ritrovano. Così, dopo 21 anni, dal 1996, la rivedo questa sera a Roma nel quartiere di Corviale. Mirella Sant'Amato. Ciao, un piacere infinito rivederti, guarda, perché per me è un'emozione. Anche per me, come se il tempo non fosse mai passato. Non passa, no, per noi non passa, gli evergreen. Evergreen in tutti i sensi. Brava Mirella, che in questi anni di cose ne ha fatte, prodotte, divulgate soprattutto. Ecco, io l'ho chiamata la sacerdotessa della felicità, perché c'è uno slogan che ho fatto mio e l'hanno fatto tante persone. Per combattere le traversie della vita, poi magari non lo recito a puntino, bisogna essere felici per allontanare le negatività, anche la morte. Sì, esatto, la vera trasgressione alla normalità è essere felici. Infatti io, diciamo, ricerco sempre delle storie diverse da quelle che raccontiamo tutti i giorni, perché quelle che raccontiamo tutti i giorni sono terrificanti, cioè sono troppo brutte. Io voglio delle storie belle e quindi sono andata alla ricerca di queste storie. E ho fatto, e non a caso scrivo, perché racconto delle altre storie. Eh sì, tante storie raccontate in questi anni, oltre a dei simposi medici che Mirella ha proprio tenuto in vari seminari, anche con dei luminari, dove anche se qualcuno arricciava il naso, lei è riuscita a far capire a tanti che essere felici significa allontanare anche le malattie, significa prevenire anche malattie di natura, che possono essere di natura psicosomatica, come il cancro. Molti avevano arricciato il naso, io ero come spettatore, ma comunque sia il patrimonio sul web dei vari incontri di Mirella è molto vasto. E adesso Mirella presenta un altro libro, un libro che è uscito qualche tempo fa, ma che tutt'oggi in giro, in tournée, nelle librerie, un po' dappertutto, si chiama Quando Troia era solo una città, ed è una rivisitazione dell'Iliade di Omero, il famoso cavallo di Troia, Elena di Troia, e guardate, almeno a sua detta, quanto la storia sia lo speculare dei giorni nostri. Ecco, qui c'è un critico, che le ha fatto la prefazione, un certo Mauro Biglino, che dice addirittura, che decodifica questo libro, la realtà attuale. Ma è così davvero, Mirella? Sì, sì, è vero, ed è proprio una scoperta molto interessante, perché in realtà noi abbiamo, come radice della nostra cultura, solo tre libri. E da questi tre libri, che ci piacciono meno, noi dobbiamo fare i conti ancora oggi. I tre libri sono la Bibbia, l'Iliade e l'Odissea. Questi tre libri hanno formato, barra sformato, tutta la nostra storia. Quindi, quando noi andiamo a rileggere questi antichi testi, in realtà ci ritroviamo tutti i perché e i percome del mondo di oggi. Il legame tra quei tempi, che appartengono affettivamente a molti migliaia di anni fa, ci fanno capire come ancora i condizionamenti di allora siano attuali oggi, il che non è cambiato niente nel profondo delle nostre menti. Sarà il caso di capirle e di cambiare un po'. Assolutamente sì, lei qualche anno fa era partita anche dalle fiabe, e poi ne parleremo, un libro che si chiamava Le principesse ignoranti. Facciamo un po' il verso al film di Ospetek, ma in realtà era molto diverso da quel film, che era Le fate ignoranti, qui Le principesse ignoranti. Ora, qui c'è un passaggio chiave, che è una specie di sottotitolo. Lei parla di un passaggio epocale dalla società matrilineare a quella patriarcale. Ecco, matrilineare non significa matriarcale. Questo bisogna spiegarlo. Sì, questa è un'ignoranza del tema, perché in realtà la gente pensa che una volta, se c'era una società matriarcale, era praticamente la stessa società identica, come l'abbiamo noi oggi con il maschio dominante, semplicemente cambiando di genere con una femmina dominante. Non è così, non è mai avvenuto nella storia che sia esistita una società in cui ci fosse una femmina dominante. La femmina non è mai stata dominante, bensì è stata appunto questo tipo di società, sono chiamate matrilineari, proprio perché, diciamo, tutto avviene in linea femminile. Diciamo, l'origine della famiglia parte dalla donna che partorisce. La donna partorisce maschi e femmine, tutti quelli si riconosceranno nel nome di quella madre. E basta. Nulla a che vedere con invece la successiva, ahimè, terribile società patriarcale di cui ancora oggi noi paghiamo terribili dazi e terribili pesi, perché è una società di dominio, è una società improntata su chi vince, su chi domina gli altri. Questo in tutti i sensi. Il maschio che domina la femmina, l'uomo che domina l'animale, l'uomo che domina gli altri uomini. Quindi tutti i popoli dominati rispetto a un vincitore, ovvero quello che è a capo della piramide. Ecco, questo è ancora un nostro modello mentale. Non è vero che è sempre stato così. Non è vero che l'antico mestiere del mondo sia la famosa Troia, ovvero puttana, perché questo è un errore storico clamoroso. Che vince da Elena. Sì, Troia sì, ma il fatto che noi pensiamo, ah, l'antico mestiere del mondo... No, questo è un errore di persone ignoranti, perché la prostituzione nasce nel IV secolo a.C., diciamo preellenico, quando la Grecia diventerà poi quella che conosciamo, la grande cultura ellenica, nascerà la prostituzione, cioè con il primo avvento del patriarca. Prima di quell'epoca, però, sapete quali erano i più antichi mestieri del mondo? Il primo più antico del mondo è il fornaio, cioè quello che impastava il cibo per le persone, che aveva il forno e che cucinava il cibo e il pane. Altro secondo mestiere molto antico è quello del vasaio, quello che non solo creava gli orci e i recipienti per mantenere il cibo, quindi importantissimo per la comunità, ma anche erano per cuocere il cibo. Quindi ovviamente questo è fondamentale, i più antichi mestieri del mondo sono questi, il terzo è la levatrice, cioè quella che faceva nascere i bambini. Quindi questo è alle radici dell'umanità, non certo la prostituzione. Assolutamente no, questa fa parte dell'era pagana, quando poi i lupanari, i famosi lupanari. Già, la grande lupa, addirittura Roma nasce con la lupa. Non è un caso. Non è un caso, lei si trova qui a Roma, in una zona periferica, peraltro che ha seri problemi, corviale per chi non è di queste parti, noi andiamo in onda un po' dappertutto, è una località costruita tra gli anni 70 e 80 con il famoso Serpentone, il Serpentone come lo chiamano i romani, che è un palazzo lungo. In altre zone di Roma. In altre zone di Roma, perché è anche peggio, forse per certi versi, Tiburtino Terzo. No, ma io faccio le conferenze invece in altre zone, quindi non solo qui. Questo è stato preso come l'emblema dell'emarginazione, della relegazione, del Bronx, della suburbia. Sì, esatto. Io sono però in una realtà esattamente rovesciata, cosa che a me piace tantissimo, perché tutto ciò che rovescia le cose comuni, io mi trovo in prima linea. Qui siamo in un posto meraviglioso, che è pure a Corviale. Questo dimostra che, quando veramente c'è la buona volontà di capire le cose, di farle in un altro modo, si può. Quindi questo dimostra che la verità che poi io racconto nel libro, che racconto in tutti i miei libri, perché in realtà ne ho scritti parecchi, quindi chi vorrà, diciamo, prendere spunto da queste cose potrà riflettere su cose che sembrano così banali, ma non lo sono. E quindi dimostra che quando davvero la vita viene capita, la vita è meravigliosa. Il problema è brutto quando però non capiamo. E non capiamo perché? Perché ci condizionano a non capire. E ci raccontano le storie sbagliate, ce le raccontano in modo malevolo e quindi questo crea un mondo terribile. Ora, se noi ci riappropriamo delle nostre storie e cominciamo a diventare responsabili e consapevoli, potremmo davvero narrare il mondo in un altro modo. decodificarlo a modo nostro e guardarlo con occhi puri, che è la cosa più difficile. Lo si ha soltanto quando si ha bambini. Io non a caso, lei ha una tre giorni romana, io ti do del lei perché ormai è una deformazione professionale, ma dico ai nostri tre spettatori, Mirella la conosco da 22 anni, 22 sì, dico bene, non a caso in queste tre giorni romano ho scelto proprio Curviale. Siamo ospiti infatti di un'associazione che si chiama Calcio Sociale che andremo poi a conoscere. Hanno anche una radio web ed è un grande istinto, un grande realtà, che riporta un po' un film, non so se te lo ricordi, degli anni 70, era il 1973, un vero e proprio film realtà, si chiamava Diario di un maestro, girato a Tiburtino Terzo con i ragazzi, con gli attori autentici, da un grande attore, Bruno Cirino. La Rai l'ha riproposto qualche tempo fa. Ed era un film girato a colori all'epoca con la realtà della periferia romana, quella che raccontava anche Pierpaolo Pasolini e che oggi con gli occhi splendidi di Mirella in qualche modo si accende la luce della speranza non solo sulla periferia romana ma sulla vita. Mirella, 22 anni dopo, noi in quegli anni 90 parlavamo male degli anni 90, adesso veramente il peggio, abbiamo scavato, non solo abbiamo toccato il fuoco. Tu parlavi di storie individuali, ecco la storia che appartiene alla mente umana proprio come conquista. Oggi veramente non se ne esce, oggi c'è il noir che domina tutti quanti i programmi televisivi. sarebbe appannaggio, è l'orrore. Questo perché? Sì, perché? Perché è una persona infelice che ha paura e che vede sempre cose negative e facilmente dominabile. Quindi le persone di potere vogliono, diciamo, un gregge ignorante, impaurito e possibilmente malato. Quindi le tre cose vanno insieme e sono tutte e tre estremamente negative. per cambiare il mondo dobbiamo rinventarci o riprendere le antiche storie che ci raccontano un mondo diverso. Infatti l'Iliade è stata scritta, diciamo, raccontando di un periodo a cavallo tra un passaggio epocale da una società matrilineare estremamente pacifica e cooperativa a una società patriarcale, guerresca e, diciamo, dominatrice. Quindi questo passaggio ci fa capire che il mondo non è sempre stato così. Noi ce lo possiamo finalmente rivedere guardando semplicemente un poema antico. Questo poema antico ha delle parole scritte. Queste parole scritte ve le sono andate a rileggere. Non sono quelle che vi fanno vedere a scuola perché a scuola ovviamente vi mirano a diventare dei bravi cittadini obbedienti, impauriti, ignoranti e malati. Servili, proni. Servili e proni. Mi raccomando che le tre cose non vengano dimenticate. Voi dovete sempre avere paura. Ecco il film dell'orrore, ecco i racconti terrifici che ci fanno. Ogni telegiornale ha sempre una disgrazia in atto. Quindi impauriti, ignoranti perché noi non dobbiamo sapere le origini della nostra cultura. Non dobbiamo leggere i libri per carità che se no se ci aprono la mente per carità di Dio. E terza cosa dobbiamo essere malati. Quindi mi raccomando prendetevi bene tutte le medicine in modo da essere sempre sedati e sempre con i livelli molto bassi di attenzione. Questo è quello che vi fanno. Questo è quello che io combatto. Diciamo che vorrei far capire che esistono altri modi di vivere il mondo e che a volte sono meravigliosi. I tuoi libri sono poi catartici e terapeutici. Ecco, leggendo Quando Troia era solo una città, il tuo ultimo libro, quando il lettore arriva all'ultima pagina e chiude il libro, qual è la sensazione che speri possa aver recepito e possa vivere, sentire? Sentire che se capiamo il mondo in un altro modo, se ce lo narriamo in quel modo in cui poi secondo me l'antico poema fu scritto, allora ci possiamo liberare di tutti questi meccanismi perversi e malati che abbiamo invece infilati in testa. Noi dobbiamo cambiare pensiero e siccome prima di un atto fisico o di una costruzione di un fatto c'è un pensiero, a monte c'è sempre un pensiero che crea, se noi cambiamo il pensiero cambiamo anche la creazione. Noi indubbiamente diventiamo liberi. Liberi autentici e qui c'è una dedica dedicata a tutti i papà che hanno delle figlie e dedicato alle figlie che non capiscono i loro papà. Sì, perché il conflitto primario è sempre tra un maschio e una femmina tra l'uomo e la donna. Su questo si sono fondati gli imperi creando questa disparità di importanza tra un maschio dominante e una femmina dominata. In realtà nessuno dei due capisce l'altro ormai più perché si sono perse le radici dell'origine di questa storia. Il libro dell'Iliade ci narra l'origine di questa storia e spero che liberi sia i papà che quindi possono amare bene le proprie figlie femmine sia queste figlie femmine che possono amare e rispettare i loro papà. Tu sei partita da lontano perché con le principesse ignoranti hai veramente sei andata al di là di tutto hai cominciato da quando eravamo appena nati dalle fiabe e da lì è la chiave di lettura quindi pensa quanto hai dato fastidio. Sono andato al liceo. Adesso siamo andati al liceo con l'Iliade. Studiamo l'Iliade Poi faremo all'università. Senti, priva di salutarti Mirella anche se Mirella Santamato la state conoscendo a livello televisivo meriterebbe ore e ore ma non ci fermiamo di certo qui ci siamo incontrati per non lasciarci altri 21 anni ma più ecco nella maniera più assoluta non è un caso che quando si è bambini noi maschietti ci fanno giocare con i soldatini e le femminucce con il dolce forno sai che ti racconto a me piaceva più il dolce forno che i soldatini si vede ma non perché io tutti dicono ah beh all'epoca c'era questa discriminazione con chi era diverso io non sono un diverso non avrei problemi ad ammettere la mia omosessualità ma sono un eterosessuale ma se fossi stato omosessuale l'avrei detto avrei fatto coming out come dicono che era non solo la canzone dei Paul McCartney quindi io preferisco il dolce forno anche perché mi piaceva pure un po' mangiare sì giustamente ma allora perché questi questi discrimini cioè esatto e poi se a me piacevano le automobiline per dire perché no cioè esatto quindi dai giochi da come pensiamo il mondo all'inizio così deriva tutta la nostra tragedia umana se noi diventiamo consapevoli questa tragedia non solo la possiamo diminuire ma a volte credetemi anche risolvere quindi la conoscenza il leggere il capire fa la differenza la guarigione è capire che non è tanto facile soprattutto con i bombardamenti mediatici distorti che abbiamo oggi e che ci ince ci facciano il cellofano ci incellofanano ecco per passate il ideologismo quando Troia era solo una città un libro di Mirella Sant'Amato prefazione di Mauro Biglino della uno editore di Torino non vorrei sbagliare e adesso vi saluto perché 21 anni fa con Mirella Sant'Amato nel talk show che conduceva San Marino venne fuori una frase e questa me la ricordo tutta siamo tutti soli che è il plurale di sole e con questo speranza sole positività grazie di esistere Mirella Sant'Amato grazie grazie a voi grazie 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 a tutti